Esclusivo. Sarà solo la seconda volta che il principe William e Kate affronteranno Harry dopo l'intervista a Oprah Winfrey del principe e della moglie Meghan Markle la duchessa di Cambridge aiuterà il marito. Il principe William e suo fratello Harry, a unirsi in un fronte unito, dopo aver accettato di partecipare alla tanto attesa inaugurazione di una statua in onore della madre, la principessa Diana. William e Harry si sono parlati a malapena negli ultimi mesi. Ma hanno dichiarato una tregua mentre si preparano a riunirsi a Kensington Palace giovedì prossimo. In quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della principessa del Galles. Il trio dovrebbe entrare insieme. Ma i fratelli faranno discorsi separati e renderanno insieme omaggio all'eredità di Diana. Così come lo scultore Ian Rank Broadly per la sua dedizione al progetto a cui stanno lavorando dal 2017, venti anni dopo la morte di Diana. Tragica morte. Una fonte reale ha dichiarato. La duchessa ha visto questo progetto evolversi dalla sua concezione e ora l'articolo finito e senza dubbio vuole essere lì per sostenere suo marito. Senza dubbio ci saranno tensioni tra i Cambridge e Harry. Ma tutti riconoscono che, nonostante i problemi ovvi e profondamente radicati tra di loro, vogliono che la giornata sia dedicata esclusivamente all'eredità duratura della principessa del Galles. Sarà solo la seconda volta che William e Kate affronteranno Harry dopo che lui e la moglie Meghan hanno preso parte a un devastante attacco alla famiglia reale nella loro intervista bomba con Oprah Winfrey. Guardato da più di 70 milioni di persone in tutto il mondo. Harry ha accusato di razzismo un membro della sua famiglia senza nome quando hanno messo in dubbio quanto scuro sarebbero stati i suoi figli non ancora nati con Meghan. L'ex attrice Meghan ha anche affermato che la famiglia l'ha abbandonata dopo la sua rivelazione che si sentiva suicida quando era incinta di cinque mesi del loro figlio Arci. Ora di due. I Cambridge e Harry sono stati visti per l'ultima volta a scambiare alcune parole subito dopo il funerale del principe Filippo ad aprile, ma non hanno parlato di altro che del servizio al castello di Windsor. Martedì è emerso come William e Kate temessero che i dettagli di qualsiasi conversazione sarebbero trapelati ai media statunitensi, secondo un importante storico reale. Grazie a tutti.